Nel mondo 25 milioni di persone non vedranno questo spot e non vedranno altro a causa del glaucoma, una malattia che può portare alla cecità ma che può essere curata se diagnosticata in tempo. Dal 12 al 18 marzo l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità promuove la settimana mondiale del glaucoma. Per conoscere le iniziative organizzate nella tua città vai sul sito iabb.it La vista può volare via. Previeni il glaucoma. Grazie.